Buongiorno carissimi, bentrovati in questo mercoledì della ventisettesima settimana del tempo ordinario, oggi anche memoria della Beata Vergine Maria del Rosario. Bene, la liturgia della parola di oggi ci presenta il secondo capitolo della Lettera ai Galati, siamo ai primi due versetti, poi dal versetto 7 al versetto 14 e troviamo Paolo tutto d'un pezzo, perché quando Pietro andò ad Antiochia si faceva un po' condizionare da quei cristiani che dal giudaismo erano passati appunto al cristianesimo, quindi vivevano ancora un po' alcune prate un po' attaccati alla tradizione dei padri e condizionano un pochettino Pietro, perché? Perché non permette lui di frequentare quella che era la mensa dei cristiani che invece erano diventati tali passando dal paganesimo, perché sulla tavola avevano tutti gli alimenti che potevano mangiare, cosa invece che i cristiani giudaizzanti un po' storcevano il naso. Quindi la libertà proprio di Paolo era quella di dire la sua verità a Pietro, che in questo momento nella testimonianza di rettitudine anche del Vangelo, eccetera, un po' scricchiorava. Quindi il messaggio di Cristo è un messaggio di libertà. In ogni formalismo, esteriorità, ipocrisia, costrizione, Paolo si fa forte in questo, quindi aderisce a Cristo e al suo insegnamento, alla sua verità. Non ha paura nemmeno di perdere la faccia di fronte a Pietro per rimanere che cosa? Coerente al Vangelo e coerente con la sua vita al Vangelo. Quindi Paolo non vuol far trionfare quella che è la sua idea, il suo pensare, ma quello che invece è il Vangelo di Cristo. Ma tutto questo lo si può attuare, lo si può avere nella forza che troviamo nella preghiera. Ecco perché il brano del Vangelo di oggi, ci presenta il capitolo undicesimo di Luca, siamo ai primi quattro versetti, e la preghiera del Padre nostro. Quindi Gesù che si trova in un luogo di appregare, un luogo così indeterminato, quindi ogni luogo è il luogo buono per la preghiera, ma anche ci sono luoghi speciali per la preghiera, come sono anche i luoghi sacri dove Dio abita, la dimora di Dio è sulla terra, la casa di Dio è la porta del cielo, quindi faccio riferimento a tutte le chiese che sono sparse per il mondo. La preghiera diventa la forza, la forza per portare avanti un messaggio, un messaggio evangelico di fedeltà a Cristo, ma nello stesso tempo anche di richiesta. Quella richiesta che il popolo romano ha detta di Pio V, quella richiesta che il popolo romano innalzò a Dio nella battaglia di Lepanto 1571, quando l'invasione dell'impero ottomano si faceva pressante, ecco quindi questa vittoria che è stata raggiunta tramite la preghiera del popolo romano con il Santo Rosario. Un tempo la memoria di questo giorno era chiamata Santa Maria della Vittoria, poi invece per sottolineare come l'arma della Vittoria fu il Rosario e così si chiamò Beata Vergine Maria del Rosario. Vogliamo quindi pregare oggi anche il Santo Rosario, prenderci un po' questo spazio di preghiera, perché il Rosario è una preghiera prettamente cristologica, perché vediamo quelli che sono gli eventi salvifici della vita di Cristo, come poi si concretizzano, si riversano nella vita della Chiesa e nella vita di Maria che fu assunta in cielo coronata nella gloria. Bene, auguro a voi una santa giornata, così anche a me, nell'impegno di cercare la verità a qualsiasi costo, perché non dobbiamo far vincere la nostra idea, ma dobbiamo essere coerenti col Vangelo, cercare la verità anche contro quei che sono i poteri forti, certe volte, perché? Perché è l'amore della verità e per amore della verità e per amore al Cristo che siamo chiamati a dire anche al nostro fratello, come Paolo l'ha fatto nei confronti di Pietro, che forse quell'atteggiamento che sta compiendo non è un atteggiamento secondo il Vangelo, secondo la volontà di Dio. Auguro a ciascuno di voi un buon compleanno, un buon onomastico a colore che porta nel nome di Rosaria, un augurio speciale di buon anniversario di matrimonio, lo voglio fare ad Andrea e Stefania e un calorissimo augurio di buon compleanno ad Antonio. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata a tutti.